Noi non chiediamo una delega in bianco per i prossimi cinque anni e non mettiamo neanche nel nostro programma tutte le promessine come si fa la letterina a Babbo Natale. Scrivete qual è il vostro pensierino. Noi abbiamo delle idee di sviluppo, dietro posso dire delle parole, quindi c'è la sanità, c'è il rispetto per l'ambiente, c'è l'uguaglianza, c'è il vivere bene, la vivibilità del territorio. Come si delina, come si decide di volta in volta quale sono le cose da fare, si fa con le frazioni, quindi mantenendo un contatto continuo con la cittadinanza, perché io sfido a chi ha votato cinque anni fa, il Partito Democratico, a chiedergli se nel programma c'era la finanziarizzazione dei servizi pubblici essenziali. Quindi se guarderete il nostro programma c'è un'idea, ci sono delle idee, c'è una struttura di fondo che ci guida, ci sono delle proposte chiare, ma non c'è tutti i pensierini di quello che faremo. Di volta in volta lo costruiremo con le frazioni, con i cittadini, con le associazioni, con i comitati, con i consigli delle frazioni, perché non vogliamo prenderci cura della città e non fare grandi eventi.